Oggi su Fanner News, calcio a 5 e calcio a 8 BMD Roma sulla strada per i playoff per i giallorossi, l'insidia dell'ex Patarini Raffica di contenuti con top players, goal parade, preview e review sulle ultime fasi della Lega Calcio 8 I primi numeri della Virgin Cup 2014 Terza settimana goal parade della Virgin Cup Le migliori parate della Virgin Cup A chiudere gli highlights delle finali dal calcio a 5 regionale e il playoff di a 2 della Lega Calcio 8